E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stefano, che si giochiamo a Katsu? È un giochino che in tantissimi ci avete consigliato Io lo sto già provando da qualche giorno Me ne sono totalmente innamorata Ci sto giocando tantissimo Quindi ovviamente abbiamo deciso di farci anche un video Esattamente, spieghiamo velocemente Che cos'è il gioco per chi non lo conosce Praticamente abbiamo un gattino che Utilizza dei veicoli personalizzati Per combattere in dei tornei, un po' come Quando c'erano i film dove si costruivano I robottini che devono combattere tra di loro Esatto, esatto Però sono delle specie di veicoli letali, super incredibili Quindi è davvero davvero carino Siamo dei fantastici gattini, cosa si può volere di più L'avevo già detto all'inizio, cara Eh ma bisogna ripeterlo Perché siamo davvero carini, carini, carini Sei pronta a vedere il round? Sì Ok, io contro Fere Tocca per guardare Vai, 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 vai Aia, aia Ti faccio male, ti faccio male, ovvio Mi sballonzoli Vediamo un po' come potrei modificarmi Ok, fammi vedere cosa tutto hai Che cosa bellissima Oh, bello quello Eh, fondi con una scocca per aumentare la sua energia di uno Questa è una scocca 1.800 lo pago Eh, costano Vabbè, dai, sì, ok Per quello ti dicevo Devi essere sicuro del veicolo Prima di potenziarli Perché costano un po' Sì, mi piace questa cosa Perché mi dà 12 di energia Che è davvero tanto Sì, tantissime Adesso potrei mettermi Delle armi letali Incredibili Allora, fammi vedere che armi hai Questa Questa Che è quella che anche tu Non è male Non sono sicura 24 di danno Allora, allora Fai vedere i trapani che hai Perché i trapani lo stesso sono fortissimi Ne hai qualcuno forte Magari con 2-3 stelline Eh, questo con 6 fa 20 danno Che non è male Questa è la mia arma super letale Delissima Proviamoci Proviamoci Aia Ma Ti ha distrutto Con che danno Con che danno faceva comunque Mamma mia Te l'ha fatto trovare un po' Riproviamoci, riproviamoci Riproviamoci 56-60 ma molta più vita Quindi a meno che È poco stabile Poverino Con cosa ti ho ucciso? Perché sfido gente così forte io? È normale, normale Sfido i gattini scarsi Io sfido quelli pro No, non è vero Li sfido anch'io forti Non ti preoccupare C'è praticamente Sai che ora hai degli sponsor Vogliono che tu vinca E di tanto in tanto Ti manderanno pezzi e monete Prendili Ah, sì, sì È vero, è vero Grazie Vediamo se troviamo qualcosa di bello Ok, allora Cerchioni abbastanza inutili Il titano no Il pomello no Dai, qualcosa di raro Dai, qualcosa di raro Qualcosa di raro Cerchione era da 30 Che forse era 10 più alto Missile classico niente di che Bonus salute Eh, questo è buono Da 3 poi è buono È buono, è buono, è buono Ok, allora Prendiamo i premi E quando non facciamo vedere Non commentiamo Ovviamente vinco Allora Teoricamente l'abbiamo migliorata un po' Abbiamo messo il repellente Che ci dà una mano E una ruota da 10 di vita Quindi almeno guadagniamo un po' di corazza in più Quindi abbiamo guadagnato un pochettino di resistenza in più Allora Facciamo molto più danno E anche molta più vita Teoricamente vinco per forza Eh, va bene Ciao caro Adesso sì che si ragiona Ciao Vai, 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 vai Mi sto infogando Mi sto infogando Andiamo, 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 andiamo 120 Ok 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 Ho un po' meno di vita Ma teoricamente faccio molto più danno di lui Eh, a voglia L'hai distrutto Bravissimo, bravissimo Ti volevo chiedere Come funzionano le scommesse? Perché c'è il gattino che dice Tocca per scommettere Allora, praticamente tu puoi decidere di puntare casualmente tra questo e questo Cioè secondo te ti vince tra questi due e tu punti Allora, se vinci l'oggetto che hai scommesso ti viene potenziato Se perdi, lo perdi Quindi è molto cattivo Devi stare attento nelle scommesse Allora Magari cercare di potenziarti qualcosa di non molto forte Che non ti interessa più di tanto Così male che vada Ok Io punto su quello a destra Tra tre minuti scopro com'è andata Esatto, esatto Nel mentre continuiamo a giocare Allora, un po' più di vita io e anche più danno dovrei abbastanza facilmente vincere Ma che cosa hai fatto amico mio? Probabilmente stava provando Delle idee un po' particolari che non sempre escono bene ed efficaci Un po' molto particolari Allora, invece nel campionato si gioca facendo così Questo è molto carino con Solini perché praticamente c'è anche il campionato Bisogna vincere un tot di partite di fila per cercare di salire di leghe E si ricevono dei premi e delle ceste ancora più speciali Combatti contro tutti gli altri giocatori del tuo gruppo una alla volta Vinci 12 rotamazioni per ottenere la promozione Ok, let's go Primo round E vittoria Travinto Vai, 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 vai Secondo round Dovrei riuscire a vincerla Sì Sì, ottima Ok Dai che ce la facciamo Poi, terzo round ce la portiamo a casa Ce la portiamo a casa Mamma mia, il repellente è fortissimo Te l'ho detto di mettere un repellente che è fortissimo Un po' più sofferta Quattro di fila Benissimo Dai ancora, dai, ancora, dai No Si è incastrato No Che disgraziato L'hai fatto apposta per far incastrare gli altri veicoli Mamma mia Ma che sfiga Vabbè, 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 vabbè Siamo comunque a 5 vittoria Dobbiamo farne 12 Ma questo? Non mi ha avuto Ha avuto qualche problema di identità Esatto Anche questo No, questo è bellino Perché è una specie di bunker Era carino l'idea Mi piaceva Sì, sì, bellino Ma che succede? Non lo so Grazie, grazie Ringraziamo Oh, non ci si lamenta finché si vince Esattamente Ci siamo capiti subito Guarda, guarda Distrutto Ok, ok Questa sfida è stata un po' più complicata Ce la facciamo Questo direttamente non ha messo armi Eh, forse Ah, vabbè, magari puntava schiacciati Non lo so, non lo so E dici Che può funzionare Dai, due, altri due Ok Aveva il repellente che mi ha fatto paura Ma poi ho fatto molto più danno di lui E questa è facilissima 12 vittorie Ce l'abbiamo fatta E quindi, teoricamente, ci becchiamo anche la promozione 684 soldini 12 medagliette Che non so bene a che cosa servono Penso per salire di classifica E cosa mi ha dato? Premio 7 gemine 2250 1050 Uno E anche una cassa Ok Bellissimo Possiamo aprirla la cassa? Eh no, mi sa che di quella da 6 ore Quindi Eh sì Eh sì Hai sbloccato pezzi migliori Bravissimo Scegli uno di questi adesivi La burger Sì, è buona la burger È troppo bellina, è troppo bellina Io ancora non l'ho trovata Posso aprire? Uh, vai Cattola speciale Allora Ok Bellissimo Questo ce lo mettiamo Vai, 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 vai Perfetto Poi abbiamo Ok, così, così Bruttino Eh, non piace troppo neanche a me Uh Questo lo proviamo Dai, dai, dai Che ci facciamo il veicolo della vita Vai, vai, vai Poi Ok Vabbè, vabbè Non male Non male Non male per niente Fortina Decisamente No, è forte Podrei combinarla all'altra Sì, poi le puoi anche potenziare Comunque praticamente dice Che mi dà il 25% di vita in più Se lo monto sulla struttura classica Sì Che si chiama classico Sì, 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 esatto, esatto Poi abbiamo Na Na Sinceramente no Vabbè, però lì puoi anche rivendere Ti fai un sacco di soldi Esatto Sì Lo voleva troppo Questo è stranissimo Credo che sia la combinazione Coca-Cola-Mentos Giusto? Sì, esatto Io ce l'ho bellissimo Lo sfrutto tanto In diversi vincoli lo metto Potrei pensare di metterlo al posto Di quello che ho Allora, vediamo un attimino Torniamo indietro Torniamo indietro Potrei valutare di cambiare un attimino Il tuo mezzo ha rotomato un avversario Ok E invece con le scommesse Cosa è successo? Vediamo Guarda Perché? Ok No, devi cliccare Tu su chi avevi scommesso? Ho scommesso su quello a destra Ok, vai Ok E beh, però Quando lo raggiunge fa più danni Ma non fa in tempo No, no, no Ho sbagliato malamente Adesso te li fa recuperare Se proprio vuoi Ti dà la possibilità di averlo gratis Perché è la prima volta che sbagliava la scommessa? Sì, mi sa di sì Mi sa di sì Ok, ok L'unica cosa che cambia è le ruote E vedi che hanno le ruote invertite Sì, 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 sì Allora, racconto che però i pomelli Che hanno qua davanti e uno dietro Ti fanno stare fermi Quindi non so Capito quanto riusciranno a raggiungersi Perché hanno solo una ruota Per dare la spinta E forse dà un po' più di spinta La ruota di dietro? Non lo so Non lo so Penso di sì Dai, puntiamo su di lui Anche se potenzia nel caso Solo del 2% Non lo so Ti dici una rotazione infinita Posso sperimentare? Vai, sì Mettici le ruote ovviamente Allora, ovviamente Metti quelle forti, vai Queste dà 40 fortissime E poi ci mettiamo quella da 30 Che non so dove danno Ce l'ha fatta finire Questo considero ammasso? Bene Sono andato a 345 Perché appunto è il tipo di struttura che dà E gli dà il 100% di vita in più 340 Proviamo così Poi il male che vada modifichiamo Dai, dai, dai Vai, 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 vai Sei su chi? Lo provo? Sì Su di te Ma no, dai Tu adesso hai le cose fortissime Guarda, mi hai superato in due secondi Vai Non sono Ah sì Sì, vediamo Non so perché ho visto il click da un'altra parte Oh, 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 oh Eh Ho talmente tanta vita Che anche se mi sballonzoli Picchia malamente Sì, sì, sì E beh, guarda la vita che ti sei fatto Però di danno eravamo abbastanza simili Sì, abbastanza simili Ci sta, ci sta Interessante Dai, allora Non voglio votarlo No, no Assolutamente no Non provare più a chiedermelo Altrimenti ti mettiamo i dislikes Allora Proviamo un round normale E vediamo come va Mi preoccupa solo sta cosa che Forse dovrei provare a invertire Quelle due ruote Eh, no Secondo me non va bene Oh Incredibile Incredibile La rimonta Incredibile Bellissimo Bellissimo Dimmi che non è fantastica Perché quando mi attacco Inizia a fare effetto Quello che gira piano piano Lo sballonzolo E lo devasto Ci può stare Dai, non so perché Non so perché Non so perché E come Però proverei ad invertire queste due ruote Sei d'accordo? Sì, ci può stare Perché mi sembrano decisamente Più lente Allora, un attimo Dove, 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 dove Risultato, risultato Allora, io ho scommesso quello di destra Dato che era un po' il favorito Riesce un minimo a muoversi Te l'ho detto Che però Rispetto all'altro Che avrebbero avuto problemi a muoversi Però credo che sarà la fortuna Di quando uno dei due Becca l'altro, no? Aspetta, aspetta Stanno andando quasi pari No, no, no Ce la fa, ce la fa Ce la fa Sicura? Ce la fa Sì Sì Perché arrivano poi le presse Te l'avevo detto Ho avuto ragione sulle ruote Ottimo Bravissima, bravissima, bravissima 14 Rotamazioni per ottenere la promozione Vai Prima round Vai Ok Siamo molto simili Oddio però Chi viene schiacciato prima? Forse lui è un po' più indietro Eh, ho paura Per chi vince? Forse tu vieni schiacciato Tu vieni schiacciato No, secondo me è lui No, io 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 Addio No Ma dai, c'hai una fortuna incredibile Dai vita È tutta tattica È tutta tattica Vuole vincere spingendomi Ma gli spacco la faccia Sono qualcosa di epico Andiamo Andiamo Siete simili, guarda Ok, però faccio molto più danno Cioè, ho molta più vita Soprattutto Esatto, esatto E fai anche un bel po' di più di danno 3 su 3 3 su 3 Stanno andando benissimo Questo campionato Ok, col trapano fai del danno Ma ho troppa vita E di conseguenza Mi porto a casa la vittoria Sì, siamo fortissimi Siamo fortissimi Vorrei un po' di stabilità in più Però la tattica mi piace un sacco Guarda, gli sballonzolo Non capiscono più nulla Aia Eh, questa volta però ci rimetti tu Sì Sì, purtroppo sì Ti è finito troppo da quella parte Che sconfitta tristissima Eh già, eh già Stai calmo Stai calmo Eh, ciao bello Ciao Ok, 5 vittorie su 6 partite Per ora siamo in una media Suficentemente buona per la promozione Ci siamo sbalzati a vicenda Ma ci colpiamo E in questo modo Vinco io No, dai Dai, ma che sfiga Dai, no Ok, dai Almeno questa la vinco Io non so Esattamente cosa hanno in mente In questi casi O magari le vogliono perdere apposta Per qualche motivo Stai magari a scendere Non lo so Eh, mi viene in mente solo quello Mi viene in mente solo Io le ringrazio Uh, che fortuna di tempismo Però forse recupero Forse recupero lo stesso Guarda, ci stiamo alzando a vicenda Vabbè, vabbè Vai Sì Bellissimo Questa era bellissima Sì, è fantastico Ok, trappano più cosa che sbalza Eeeh Ce la faccio 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 Eh, no Oddio 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 Forse sì Forse no Forse sì Ma dai Di quanto poco Hai visto che abbiamo usato la coca cola? Sì Per sbalzare Sì E cercare di farmi perdere Praticamente la puoi usare Trovi sia quella che vanno avanti E sbalza gli avversari E sia quella che va verso l'indietro E quindi sbalza a te Ti dà uno sprint iniziale Bellissimo Io l'ho trovata Ah, gli accento Eh, questa era forse Con che arma? Sì, questa era forse Malissimo Ok, qua abbiamo la stessa vita Io faccio leggermente di più Però abbiamo cos'è che ci sbalza Una vicenda Ed è una catastrofe Mi sta spingendo No, 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 no Cavolo Peccato Cavolo Peccato, 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 peccato Eh, vabbè, ma Se volevi Eh, lo vedi che è un doppio trapano, Ferre? Sì, è bellissima La voglio fare anch'io Hai vinto nove rotamazioni Eh, vabbè, dai Si può migliorare, si può migliorare Comunque non è andata male Dai, non è andata male Vero, 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 vero Ci siamo guardi tre pubblicità di fila Per aprire almeno una cassa Vediamo cosa troviamo Allora Pomello Da 25 di vita Non male Non male, non male, non male, non male, non male Missile molto forte Questo qui per potenziare altri eventuali pezzi è buono Beh, ma a me i missili non dispiacciono Quindi ci faccio un pensierino per tenermelo 25 di anni, non è male Eh, lo cambi No, cambialo subito, cambialo subito, cambialo subito Incredibile Che bello Ma con che fortuna Con che fortuna Puoi per essere una cassa normale Una cassa normale Quindi sì Allora, aspettate un attimo Aspettate un attimo Dov'era, 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 dov'era E super avanti Eh, lo so, lo so Eccolo Questo Non sbagliare, sì, sì Quindi togli Eh, 30 Di vita Era la sua vita? 400 di vita Wow, wow, wow Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto questo gioco Nel caso fateci sapere con il sondaggio Con i likes, con i commenti Se vi piace molto possiamo valutare l'idea di riportarlo Di fare delle sfide Perché è bellissima Tra me e Veronica Iniziando a cambiare tutto il tempo il veicolo Perché avremo ovviamente tanti più pezzi E quindi si possono fare dei torni interni Anche se ci aggiungete su Facebook In effetti possiamo sfidare anche a voi Dato che non serve essere nello stesso momento in partita Esatto, esatto Quindi potrebbe essere carina anche questa cosa Ci fermiamo così E speriamo che il video vi sia piaciuto Beh ragazzi Così si è piaciuto Sciateci un like E se la prima volta che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao